Io vedo questo padernino così che posso dimostrare quanto il studio c'è stato di proprio caso Mi dice io ho tutto qua E ma mai E ma mai E ma mai 3, 2, 1 Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Ciao Vale, presentati ovviamente Ciao ragazzi nel tubo Stop, fermi Allora, già il fatto è 1, ciak E quindi abbiamo deciso di aprire la società Di che te la si tratta? Stop E ma ci cambi tutto Freeze No Non è dentro bene il chiselino? Ma però il chiselino è andato Perché è tutto il chiselino? Guarda, non era dentro ma guarda In aggirlo La scelta Oh my god E no, non vogliamo dirlo questo No, troppo Perché? Troppo spoiler Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Io scusate non posso alzare dal po' il braccio perché sennò Jimmy di Arti si arrabbia Non ci stiamo nell'inquadratura Non ci stiamo nell'inquadratura Ci state benissimo, anche troppo Allora, ciao Vale, presentati al YouTube Perché prima ha detto tubo e questo è veramente anno 90 Beh, io sono una boomer e quindi Comunque, ciao a tutti, io sono la figlia rompica di Silvia, nonché la sua socia E siamo qui per parlarvi del nostro nuovo, fantastico progetto Sono anni che veramente abbiamo riflettuto, pensato, ce ne siamo inventate di ogni Perché volevamo fare qualcosa insieme che avesse un senso Non volevamo fare un progetto, una cosa, un'idea Volevamo qualcosa in cui credevamo veramente Concreto e corposo, insomma Che ci rispecchiasse soprattutto Diciamo che dopo tutta un'evoluzione, anche nostra personale, insomma Perché comunque nel tempo siamo cambiate, siamo cresciute E abbiamo, insomma, sviluppato nuovi modi di vivere anche il benessere Insomma, di abbracciare uno stile di vita sano Siamo arrivate a decidere di voler comunicare e, diciamo, coinvolgere ancora di più Le nostre community all'interno della nostra vita Diventando una vera e propria famiglia, diciamo Per questo abbiamo deciso di creare questa società E, diciamo, il nome Diciamo? Che dicevo, è ufficiale Sì, è ufficiale, voglia Taradam Bloomwell! Ti parte l'anima Che parte tutto, parte tutto Esplosione, coriandoli Bloomwell è l'unione Bloomwell è l'unione tra bloom e well Quindi, fiorire e benessere Well, non è Welless Sì, no, devo dire benessere perché a volte mi viene a dire wellessere Mamma mia! Bloomwell nasce come piattaforma online Noi negli anni abbiamo sempre condiviso il nostro stile di vita E voi siete sempre state un pochino spettatori di questo Inoltre, abbiamo realizzato che ci sono tantissimi contenuti a vostra disposizione Però questi non sono mai troppo ben organizzati C'è la ricetta che magari ci può ispirare Sì, ma quando mangiare, in che quantità? Oppure c'è l'allenamento condiviso della vostra fitness class preferita? Ok, però quando lo faccio, quante ripetizioni, come? Quindi, l'idea di Bloomwell è quella di creare uno spazio dove chi vi accede ha la possibilità di cogliere tutti questi strumenti con un determinato ordine Esatto, assolutamente Quindi, diciamo che è proprio un percorso guidato Noi li prendiamo per mano e li portiamo con noi all'interno del nostro modo di vivere L'alimentazione, l'allenamento Un'organizzazione assolutamente, diciamo, semplice e naturale Che speriamo diventi sempre di più anche la vostra Non solo alimentazione e allenamento Ma anche tutto ciò che riguarda la persona e il benessere a 360 gradi Quindi toccheremo ambiti come la mindfulness, la salute mentale Ma anche perché no, la salute della pelle, skin care, beauty care, ma anche del sonno La prevenzione Tutti gli aspetti del benessere saranno toccati in diverse aree tematiche Questo perché non vogliamo che siate più spettatori Ma vogliamo rendervi attori di questo stile di vita sano che noi per anni abbiamo professato Sì, siamo tutti un po' protagonisti all'interno di Junwell È questo che vogliamo creare Una community attiva, una community che partecipa sempre di più Nasce come piattaforma online Su abbonamento Quindi magari, cioè, sicuramente in futuro quando sarà strutturata Perché ora è in fase di costruzione Del nostro web designer Ciao Mario Però, presentemente, se ci seguite sui nostri canali social Avrete visto che c'è stata un'evoluzione Il new entry Esatto, quel lab Adesso possiamo, insomma, svelare un nome Realmente, diciamo, un nome che è bellissimo No, mi ha scelto la Vale Effettivamente sono a tua invenzione Il Bloom Lab Ok, quel laboratorio E fiorire Venite a fiorire con noi Questo ci piace tantissimo E quindi, anche lì, adesso, piano piano Vi coinvolgeremo Vi chiederemo aiuto Perché vogliamo creare un ambiente Che sia accogliente Che sia positivo, colorato Che sia effervescente, diciamo così E all'interno del quale Vogliamo strutturare poi Dei piccoli eventi Dei talk Potrete venire a trovarci Potrete allenarvi con noi Facinare con noi Potremmo fare tantissime cose insieme Potremmo meditare Potremmo disegnare Insomma, non vi dico più niente Perché se no vado avanti Non so per quanto tempo E, appunto Però adesso dobbiamo, insomma Step by step Andare ad arredarlo Abbiamo poi il nostro Jimmy Che ovviamente architetto Ci sta aiutando in questa cosa E vogliamo, appunto Scegliere con voi colore Un po' tutto quanto Quindi l'idea è non essere solo presenti online Ma essere anche presenti sul fisico Perché comunque vogliamo creare Un vero e proprio legame con voi E pensiamo che questo sia veramente il modo migliore Ovviamente chi non potrà essere presente a Milano Sarà coinvolto tramite la piattaforma E tramite il profilo social Che da oggi è aperto Quindi andate a seguirci Poi vabbè Avremo anche delle live Comunque quindi Sicuramente Tutti ci saranno coinvolti Però proprio l'idea È che quella che voi verrete Saranno degli eventi Workshop Come diceva Valeria prima E Curerete la vostra anima Il vostro corpo Il vostro benessere Insieme a noi Per ora Visto che vogliamo già attivarvi E Rendervi Eccitati Tanto quanto lo siamo noi Per il Bloom Lab E per tutto il progetto Di Bloom Well Condivideremo con voi Tutta la parte di ristrutturazione E rinnovamento Lezione E rinnovamento Quindi anche se siete un pochino Parantiche del design Eccetera Come Ci divertiremo Insomma E poi In teoria da settembre Dovremmo riuscire A avviare Tutto il progetto Niente Volevo dire un pezzo di spoiler Ma mi hanno bloccato Quindi non vi posso dire niente Ma sappiate che Abbiamo veramente Grandi cose In servo Per voi Perché vogliamo veramente Darvi Sì Anche perché Sono anni che Comunque Voi date a noi Cioè è sempre stato Un bello scambio E adesso Abbiamo l'energia E probabilmente Anche la maturità Per fare quello step in più Perché ovviamente Saranno contenuti Totalmente diversi Rispetto a quelli che ora Condividiamo su Instagram Ma magari sono Un upgrade Sì perché ora magari Sui social sono più Incentrati su di noi Quello che piace a noi Quello che facciamo noi E invece adesso Ci sarà quel passo in più Dove facciamo delle cose Dedicate a voi Allargando il cerchio Soprattutto in una prima fase Avremo tanto bisogno Del vostro feedback Esatto Ma insomma Vabbè Questo era soltanto Un piccolo assaggio E racconto di quello Che tenavamo dentro E che da adesso Finalmente possiamo Raccontarvi Adesso vorrei dire Chiudiamo questo video Perché se no Silvia va avanti Vi spoilerà troppe cose E poi c'è Jimmy Che Dall'altra parte Dello schermo Ci fa dei gesti Vi aspettiamo Nel nostro Guarda Già Già No no Vi aspettiamo Nella nostra piattaforma E poi speriamo anche Di incontrarvi Personalmente 3 2 1 Ciak Bene Ora ci siamo Già dilungate abbastanza Quindi spero che questo Progetto Vi ispiri E vi esali Tanto quanto lo siamo noi E non dimenticate Di seguirci Anche sul profilo Di Blue Well World E noi ci vediamo Nel prossimo video Un grande abbraccio Un bacio Ciao ciao Grazie Comunque Andiamo Comunque Questo è tutto Il brainstorming Che ho fatto Per arrivare A Blue Well È stato Lungissimo Ho fatto Di tutto Your Health Space Your Movement Space Flowless Connected Latino Italiano Anche latino Anzi Io non parlo latino Ma anche avrei Preso il latino Alla fine Blue Well Sono lunghissima Ma ti giro Tu pagina Per tutto il progetto E che è Ti ho un po' Do pas Lo per O Lungo Si Ho Varia Grazie a tutti